buongiorno ragazzi chi chi 14.000 siamo adesso in 14.000 e do un ciao a tutti voi per questo ho deciso di fare un video un video dove mi vedete dove mi conoscete un po meglio qualcuno mi conosce già e tanti altri no ovvio per questo ho deciso piccolo video così sai un po più di me chi sono chi sono sono adriana e faccio questo diciamo questo metodo dipingere con l'acqua da sempre poi abbiamo divulgato ho iniziato a divulgarlo con il gruppo facebook e adesso siamo in tanti a tanti piace il metodo tanti prendono qualcosa del metodo lo integrano nel proprio e così è giusto tanti fanno tutt'altra cosa e va bene così c'è una cosa più l'altra cosa ok nel senso che l'acquarello è veramente un universo e a me fa tanto piacere che siamo così in tanti c'è chi è più attivo grazie c'è chi è meno grazie anche a voi perché so che guardate e so che siete ispirati e ispirate l'acquarello è fantastico per me penso anche per te giusto vero perché è fantastico perché è sempre nuovo lo puoi fare in tanti modi è un medium fluido una tecnica che fa tante cose da sola proprio nel dipingere con l'acqua quello che voglio enfatizzare è che l'acqua fa la sua parte se tu fai fare delle cose a chi le sa fare le fa meglio è vero o no ragazzi quindi se l'acqua e colore sanno fare delle cose facciamogli fare perché certe cose giusto le sapevamo fare noi bene ma tante altre cose le fa l'acqua insieme al colore e tu che fai dipingere con l'acqua devi sapere dobbiamo sapere dove interagire nel momento giusto per far fare all'acqua quello che sa fare ma anche quello che vorresti tu che lei facesse mi sono spiegata capita mi ho sì io mi ho capita anche tu mi hai capito cosa vorrei non vorrei voglio ringraziare tutti per rendere questo gruppo quello che è è un gruppo interattivo un gruppo molti sfaccettato tante persone che vogliono mostrare la loro arte tante persone molto brave tante persone all'inizio tante persone intermedie ci siamo per tutti e nonostante questo numero veramente grande siamo uno dei gruppi molto molto numerosi in questo paese italia e nonostante questo manteniamo un rapporto amichevole sono nate tante amicizie sono nate conoscenze ci siamo incontrati vi siete incontrati avete fatto dei gruppi siamo a Roma siamo a Brescia comunque siamo in tutta la parte dell'Italia in piccoli gruppi in grandi gruppi io sono veramente orgogliosa ok oggigiorno c'è facebook c'è tiktok c'è che ne so non so tutti i nomi io ho due canali no tre ho facebook che è questo questo mio gruppo faccio qualcosa su instagram ma non tanto e youtube ovviamente i filmati di youtube questi sono i tre canali che uso però mio preferito siete voi siete voi tutti io vi ringrazio di cuore così grazie di essere qua con me di dare tutti i giorni i vostri contributi e rendere la vita colorata e acquarellosa grazie e buon acquarello a tutti